Ciao, sono Paolo Brada e ti do il benvenuto nel mio laboratorio. Prima di lasciarti al video, ti ricordo che se ti va, puoi iscriverti al canale, mettere mi piace e seguirmi anche sui social. Buona visione e ricordati di condividere il video. Allora, può essere utile avere una guida qua dietro, quando vogliamo forare qualcosa e quindi avere un appoggio in modo che non si muova. E perché no, averne magari anche una sul davanti da poter utilizzare anche come blocco. Mettiamo il pezzo in mezzo, siamo sicuri, non mettiamo neanche le mani vicino e ce lo regoliamo magari con dei bulloni, con dei galletti come questi. Così sono anche veloci da registrare. E visto che sul pianetto del trapano a colonna abbiamo già queste asole che possono agevolare questa operazione, perché non andarlo a fare? Quindi posizioniamo l'asse in linea con il pianetto, sulla parte posteriore, e andiamo a segnare con una matita le asole sull'asse. Ora con una punta adatta andiamo a fare qualche foro. Una volta allargati i buchi, ecco quello che ci serve. Un bulloni con una rondella dalla parte di sotto, e nel mio caso una rondella più larga e una un po' più piccola. E poi andiamo a mettere, a evitare il galletto. Vediamo che abbiamo lo spazio per muovere sia il galletto che anche l'asse, in funzione del tipo di foro che dobbiamo andare ad eseguire. Possiamo stare un po' più indietro o un po' più in avanti. È veloce da spostare e da regolare. E così possiamo usarlo come guida o comunque come blocco, per quando dobbiamo eseguire dei fori. Sicuramente il pezzo non si muoverà perché è appoggiato appunto sulla guida posteriore. E volendo possiamo costruircene anche un'altra sul davanti, che opportunamente regolata potrebbe tenere il pezzo ancora più saldo, come se fosse in una morsa. Adesso vediamo anche come risolvere il movimento del mandrino. Nel canotto quando scende. Che c'è ed è presente specialmente nei trapani economici. In questo qui non tantissimo, ma in altri più economici è ancora più evidente. E ovviamente quando il canotto fa l'escursione completa si amplifica. E non è una buona cosa per la riuscita del foro. Una cosa semplice che magari la maggior parte di voi sapranno, ma potrebbe esserci qualcuno che non lo sa, è che qui sul lato c'è una regolazione che va a scorrere all'interno di questa scanalatura, di questo scavo che abbiamo qui sul lato. In altri trapani può essere sul davanti o dall'altra parte, però il senso non cambia. Cosa dobbiamo fare noi semplicemente? Andiamo ad allentare questo dado che io ho già allentato. Lo allentiamo in modo da poter agire con il cacciavite su questa vite che c'è all'interno. Vedete questa vite, se noi facciamo uscire il canotto e la stringiamo troppo, blocca totalmente il canotto. Se invece lo allentiamo un po', il canotto scorre libero. La regolazione sta appunto nel stringere la vite quel tanto che basta da rendere il canotto il più preciso possibile, ma non da bloccarlo totalmente, ovviamente. Una volta fatto ciò andiamo a stringere di nuovo il controdado e se il problema è solo un discorso di regolazione, il nostro canotto, anche quando saremo alla massima escursione, risulterà molto più preciso e non avrà nessun tipo di gioco. Questa è una cosa molto importante da sapere perché magari tante volte pensiamo che il nostro trapano abbia un difetto quando invece è semplicemente da regolare in questo punto qua. Ho deciso di adottare questo carellino, era un vecchio carellino porta tv, porta hi-fi. Gli ho rifatto il ripiano qui a metà e allora sotto ci ho messo la decca di elettrodo e sopra invece la decca a filo. Con tutte le maschere, gli accessori, i cavi, martellini e spazzole, tutto quello per la saldatura, tutto là sotto. Così almeno è su ruote e posso spostarmene agevolmente all'interno del laboratorio senza problemi. E momentaneamente per problemi di spazio ho dovuto metterci sopra anche il banchetto sega perché finché resto qua dentro ho paura di non riuscire a fare due banchi separati. Quindi per ora il banco sega starà fissato qua sopra e sotto avrò tutta la trezzatura per saldare. Anche questo video è terminato. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Un mi piace, la condivisione e l'iscrizione al canale sono più che graditi. Se volete potete seguirmi anche su Facebook, Twitter e Instagram. Grazie a tutti.